Sio, sto qui in Denkinec, ciao a tutti, oggi voglio, dopo avervi ricordato di condividere il video perché queste cose purtroppo non vengono dette nell'Ovest Europeo, non solo in Italia, da quello che vedo voglio portarvi delle notizie selezionate tra i vari servizi sull'immigrazione e sulla rotta balcanica della televisione pubblica ungherese M1 vi riporto tra i vari racconti appunto della rotta balcanica che interessa anche l'Italia come punto da approdo, come obiettivo tra gli altri, molto importante quello del Friuli Venezia Giulia dove molti di voi vivranno da quello che ho letto voglio portarvi l'episodio di racconto di ciò che succede al confine bosniaco-croato di Biac ve la ricorderete quella cittadina che ha quel centro d'accoglienza, cosiddetto d'accoglienza sovraffollato in passato, anche oggi e soprattutto oggi, quasi ai ritmi del 2015-16 e vi ricorderete i tentativi di sfondare i cordoni della polizia croata come vi ho raccontato in questo canale oggi ci sono più di 7.000 persone che bivaccano in quelle zone cercando di entrare in Croazia ovviamente clandestini quale potrebbe mai essere la reazione, secondo voi, censurata dai media dell'Ovest della popolazione locale? naturalmente le proteste c'è un video dello scorso fine settimana dove si vedono fiumi di clandestini per le strade della cittadina di Biac vedere questi gruppi, anche fino a 500 persone insieme, camminare è diventata la stranissima, terribile normalità di queste povere persone che devono convivere con questa illegalità diffusa la Bosnia ha importanti legami e aiuti con l'Unione Europea questo ve lo dico io geneticamente l'Unione Europea è immigrazionista è amica di Soros e dell'obiettivo della società aperta, della Open Society quindi una società fatta di immigrati, di minoranze sulla scia della prospettiva neomarxista pur essendo Soros un anticomunista e quindi un neocomunista, potremmo dire un neomarxismo, appunto, ultraliberale in questa strana alleanza di cui vi parlo da diversi video che a molti non cala giù non riescono a comprenderla bene ma se ne accorgeranno negli anni a venire i bosniaci non ce la fanno più e sono scesi, come vi dicevo, in strada sabato e domenica scorsi quindi due giorni fa, due o tre giorni fa i cartelli dicono molto i cartelli mostrati agli abitanti si dice non vogliamo vivere in minoranza desideriamo una vita tranquilla non vogliamo vivere in minoranza questo è importante i clandestini rendono la cittadina invivibile a detta degli stessi abitanti dunque non c'è sicurezza tra furti e frazioni in case sfitte che spesso prendono fuoco come vi ho raccontato nei mesi passati pensate manifestazioni simili a Lampedusa, nel sud Italia toni simili, parole simili l'Ovest è in realtà ormai dominato dal politicamente corretto dallo pseudo-anti-razzismo verso chi è illegale questo è un paradosso verso chi non dovrebbe neanche mettere piede in Europa sentite un signore di nome Enver che dice vivo a Velika Kladusha lì vicino tutti lì ci sentiamo abbandonati dalla politica nazionale e locale questo si ricollega al legame tra Bosnia e Unione Europea possiamo solo protestare preoccupati per gli anziani per il futuro dei nostri bambini dei giovani come non capire questa testimonianza un altro cittadino più giovane invece Hussein e provate globalistelli delle mie scatole ad accusare i bosniaci di islamofobia provateci se ci riuscite potreste riuscire anche voi siete maestri nell'assurdo sentite questo Hussein più giovane ci sono migliaia di persone completamente sconosciute alle autorità si muovono liberamente senza documenti ormai non vediamo al sicuro non può andare avanti in questo modo ma è quello che diciamo noi da mesi ormai anche da anni domenica la manifestazione è terminata male un gruppo ha bloccato la strada principale basta con nuovi autobus con dentro nuovi cosiddetti ospiti del centro un bus è stato preso di mira qualcuno ha preso a bastonate un vetro frontale del mezzo è dovuta intervenire la polizia per calmare gli animi quanti milioni di clandestini devono arrivare prima che i popoli della rotta balcanica e soprattutto dell'ovest europeo e del nord Europa si svegliano dalla suicida accettazione di questa che è una vera e propria invasione in piena regola graduale fatta negli anni dell'Europa dei popoli europei quanto tempo servirà per avere la politica del governo ungherese di arrivi zero zero arrivi non gestione fermare l'illegalità completamente in tutto il continente il vecchio continente chi critica reti mure muri polizie di frontiera divise dunque che proteggono i confini si ritroverà vittima della sua stessa stupidità straniero a casa sua poi vi porto la testimonianza di Orva Tiocev sempre a M1 televisione pubblica ungherese un esperto in sicurezza che dice purtroppo l'Ovest ha ancora il messaggio sbagliato agli illegali potete venire farcela tranquillamente a passare le frontiere e vivere tranquillamente in Europa ieri ma questo lo sentite queste parole le sentite da un ospite della televisione pubblica dell'Ovest europeo ma neanche privata nazionale questo è un dramma non c'è libertà nell'OV dopo parlano di libertà di espressione non si possono criticare certe prese di posizione dei governi immigrazionisti nell'Europa dell'Ovest e in Nord America ieri un nuovo contingente della polizia ungherese è partito per la Macedonia del Nord l'obiettivo è dare una mano a difendere i confini da sud quindi dalla Grecia i 30 resteranno lì per un mese uno di loro dice ai microfoni faremo di tutto per impedire gli accessi illegali ovviamente ai Balcani occidentali quindi dalla Macedonia del Nord verso Nord quelli che potrebbero portare molti decine di migliaia di clandestini anche in Friuli Venezia Giulia dunque in Italia nell'Ovest europeo nel Nord Europa io direi che se volete lasciate un mi piace condividete il video iscrivetevi per seguire altre notizie censurate le medie dell'Ovest europeo e dunque italiani anche se potete volete fate una donazione anche mensile per supportare il lavoro di traduzione di ricerca eccetera alla prossima bislata